Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi associazioni nel mondo per la guarigione per via spirituale. Scriviamo e documentiamo le guarigioni, le facciamo controllare da un gruppo di medici in modo che sia veramente dimostrato se la guarigione è avvenuta per via spirituale o se la malattia sarebbe scomparsa comunque. Oggi siamo qui a Zagreb e abbiamo partecipato a questo congresso organizzato dal Ministero della Salute della Croazia grazie alla cui promozione abbiamo avuto una ampia visibilità per presentare il Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Erano presenti diversi media, tra cui RTL e molti giornalisti. Era presente l'inviato del Ministero della Salute che si è congratulato con noi per il lavoro svolto. Quando, come oggi, mi trovo insieme a persone guarite e a medici e vengo presentato a un pubblico di 5, 6, 7, 800 persone e con me il Circolo degli Amici di Bruno Gröning ho una sensazione meravigliosa sapendo che qui ci sono persone alla ricerca e che noi possiamo dare loro, in tutta onestà, una risposta a ciò che cercano. Bruno Gröning ci aiuta, ci mostra come possiamo assorbire in noi la forza guaritrice di lei. E questo Heilstrom porta l'ordine in tutti gli ambiti, porta armonia. Questo Heilstrom è così intelligente che conosce molto bene i nostri problemi e il suo unico scopo è armonizzare di nuovo tutto. Quando vedo tante persone sedute davanti a me che accolgono questa forza e alla fine esprimono di aver percepito qualcosa allora è molto, molto speciale per me perché con essa si è accesa una piccola luce in loro insieme alla speranza e alla fede di poter anche avere successo nella loro vita e che non dovranno vivere con i dolori avuti per 10, 20, 30 anni fino alla fine della loro vita e che il successo attende ognuno. Il bello è poter dire alle persone c'è già una comunità nella tua città puoi andarci e ricevere regolarmente questa forza e un giorno potrai stare qui a riferire come hai sperimentato aiuto e guarigione. Bruno Gröning sapeva che se una persona sulla via spirituale vuole evolversi ulteriormente da sola è troppo debole alla lunga e per questo diceva incontratevi e riunitevi per questo sono nate le comunità e l'associazione degli amici di Bruno Gröning oggi ci sono più di 3000 comunità in più di 130 paesi nel mondo e ogni tre settimane gli amici di Bruno Gröning si incontrano in queste comunità soprattutto per scambiarsi informazioni sulle guarigioni sperimentate da loro se ho sperimentato qualcosa lo condivido con gli altri lo racconto a loro è molto interessante quando sento una guarigione raccontata da una persona che conosco allora sì ci credo e in me nasce la fede se colui che era effettivamente senza speranza è stato aiutato allora può aiutare anche me e così si è rafforzata la fede in me questo è uno dei presupposti per una guarigione Bruno Gröning disse che la prima cosa è la volontà di diventare sani inoltre la fede nella salute e nella guarigione è un prerequisito fondamentale queste sono le prime cose a cui si deve prestare attenzione nella comunità seconda cosa gli amici nelle comunità continuano a sentir parlare dell'insegnamento di Bruno Gröning di ciò che aveva detto e di ciò che aiuta non solo a diventare sani ma anche a rimanere sani e a condurre una vita felice questo è ciò che si sente nelle comunità l'insegnamento di Bruno Gröning poi naturalmente è molto importante l'Einstellen collettivo cioè gli amici della comunità accolgono insieme la corrente divina di guarigione un'ora di comunità è come ricaricare una batteria e quando si torna a casa dopo un'ora e mezza o due ci si sente ricaricati ci si sente in forma con il desiderio di tornarci poiché era talmente interessante a ciò si aggiunge il fatto che con il tempo si inizia a conoscersi grazie a tutti Grazie a tutti.